Quarta giornata del campionato di Seguici Silver con l'Allianzullas a ferma per riposo ma che continua la preparazione in vista delle ritorne in campo il 18 ottobre contro i De Viest. I biancazzurri ne hanno approfittato per una microbole di lusso disputata giovedì scorso a San Severo contro la capolista in B2 cestistica San Severo. I ragazzi di Coccia Marinelli hanno vinto per 66-72. Con l'imbosso sulla via del recupero mentre una buona impressione ha suscitato Mike Malat ultimo acquisto udassino che potrebbe essere schierato tra otto giorni. E' inevitabile l'attenzione si sposta sull'Olimpica Basket impegnata domenica pomaglio alle 17.30 al Paladileo contro la Juve. I gialloblu di Giovanni Cesmundo hanno dalla loro una doppia settimana di preparazione e avendo spottato il turno di riposo possono dire da loro di contro una formazione ospite che deve riscattarsi dalla sconfitta interna ad opera del Nardò. Altri incontri da seguire di questo turno da Imond e Foggia Fasano, Vieste Monopoli e Francavilla Altamurà.